Si vivono momenti di altissima tensione in Casanissa, dove dopo le dimissioni del tecnico Settineri avvenute un mese fa, oggi si aggiungono quelle del direttore tecnico Massimo Ferraro. Ancora nessuna nota in merito dalla società biancoscudata. Questa è la dichiarazione di Ferraro. Considerata la perdurante diversità di idee ed opinioni, molto distanti tra il sottoscritto e l'area tecnica, e considerata che la spaccatura venutasi a creare hanno portato da un lato all'allontanamento di alcuni giocatori e dall'altro all'impossibilità di farne entrare altri necessari per il raggiungimento di quello che era l'obiettivo iniziale dettatomi dalla società una salvezza tranquilla, mi sento in dovere di rassegnare le dimissioni dal ruolo assegnatomi augurando a tutti i soci, tesserati e tifosi che ne fanno parte un grande in bocca al lupo.